oh buongiorno riccardo vedo che avete provato la mia marmellata di lumache eh sì potrebbe farmi tornare come prima la prego perché non vi piace essere una lumaca è meraviglioso solo che mi sento un po appiccicoso come preferite oh così va meglio signora strega può farci smettere di ballare ma certo e può anche far tornare i miei capelli come erano prima con piacere e le dispiacerebbe riprendersi queste cose io non le voglio più ma come gettare via tutte queste cose mi ha fatto capire che è arrivato per me il momento di fare le pulizie di primavera per caso qualcuno di voi vuole un pentolino magico e adesso cosa facciamo non possiamo lasciarli in giro sono tutti oggetti troppo pericolosi è il caso che ci pensi io cielo ma che cosa ha fatto alla sua casa che cosa volete dire come era sistemata prima andava benissimo era molto più da strega questa lampada starebbe a meraviglia qui è proprio dove la tenevo e la marmellata di lumache starebbe a meraviglia qui infatti lì è dove è sempre stata il tappeto qui e lo specchio qui dove sono sempre stati sa che lei ha davvero un ottimo gusto signora strega non mi stupisco che la sua casa sia così bella vi ringrazio voi siete un uomo adorabile o che dire faccio del mio meglio arrivederci signora strega arrivederci a voi e grazie per il vostro aiuto paparino tu sei davvero convinto che tutti quegli oggetti rendano bella la casa della signora strega no quel posto per me è un vero porcino ti ringrazio bimbo elfo no uomo elfo troviamo dove si nasconde fragolina e chiediamole di far smettere di nevicare subito la neve ha ricoperto interamente il piccolo regno fa freddo anche qui sì questo trono di ghiaccio ha congelato il mio povero sederino non potresti trasformarti nella regina del sole adesso è troppo tardi ormai sono la regina del ghiaccio il nascondiglio segreto di fragolina deve essere da queste parti secondo te in quale posto vivrebbe una super malvagia come fragolina la regina del ghiaccio che ne dici di quello wow un enorme palazzo di ghiaccio è molto meglio dell'elfo caverna mille volte no non è vero è tutta scena non cantare vittoria regina del ghiaccio che cosa vi porta da queste parti bimbo elfo sono l'uomo elfo siamo venuti qua per fermarti ma voi non potete fermare la potente regina del ghiaccio fa freddo qui dentro fragolina gli adulti si stanno lamentando di tutta la neve che ha ricoperto il piccolo regno ops davvero sì siamo nei guai io non credo che siamo nei guai basta che la smettiamo con questo gioco va bene ho vinto io no i buoni vincono ma non è giusto voi siete in trappola ok avete vinto voi finalmente posso liberarmi di questo trono di ghiaccio il mio sederino è congelato ah che bello è tornato in su rivoluzione chiamo a raccolta gli alfi abbasso il re è molto peggio di così lui mi ha ordinato di andare in in vacanza ma è incredibile lo so che sei sconvolta una notizia meravigliosa non siamo mai andati in vacanza ma che cosa stai dicendo una volta siamo andati al mare era una gita di un giorno e siamo anche andati sulla luna io sono rimasta a terra no è vero e va bene se non c'è altra scelta andiamo in vacanza il piano è questo prendiamo l'aereo degli elfi e andiamo in un posto carino fantastico facciamo un pranzo veloce riordiniamo e poi ritorniamo a casa in tempo per la mia consegna serale questa non è affatto una vacanza adesso stammi bene a sentire signor elfo ce ne staremo via per almeno una settimana andremo in un posto caldo e tu ti dovrai rilassare ma io sono un elfo e agli elfi non piace per niente rilassarsi allora dovrai imparare a farlo sarà molto divertente signor elfo lo vedremo ma questa è una vacanza degli elfi e quindi niente magia ho lì hai capito va bene signor elfo e non voglio animaletti dai papà la vacanza è mia e le regole le faccio io mi dispiace gastone dovrai rimanere nel piccolo regno ciao ciao gastone avanti salite a bordo o arriveremo in ritardo in vacanza per favore signor elfo cerca di divertirti un po d'accordo ci proverò pronti per il decollo sì sì parte noi in vacanza andiamo noi in vacanza andiamo e ci divertiamo e ci divertiamo forza popà canta con noi sì vedrai che cantare molto rilassante non posso rilassarmi adesso Le gemelle sono scappate Sono uscite dal castello Devo suonare subito l'allarme, gemelle Oh, vi state agitando tanto per niente Oh, davvero? Le gemelle sono là fuori Da qualche parte con la tua bacchetta Quali altri incantesi mi hanno imparato? Oh, devo aver detto qualcosa Sugli alberi che camminano, credo Albero, cammina! Cammina! Papà, gli alberi stanno venendo verso il piccolo castello Non voglio nemmeno sentirlo È come un brutto sogno Immagino sia tu la responsabile di questo, tata Susina No, è stata nonna Cardo Buongiorno, cari Nonna Cardo? Dovevo immaginarlo Ne è passato di tempo, Cedric Non abbastanza Millicent, sei sempre stata una portatrice di guai Sì, madre È tua la colpa E tu dovrai trovare una soluzione D'accordo, sei tu il capo Penso che i bambini debbano divertirsi un po' Tutto qui Divertirsi va bene Ma ci sono dei limiti E di sicuro tu li hai superati Oh, santo cielo Daisy e Poppy Che ci fate qui da sole? Coniglio, coniglietto Ovetto Ranacchia Ah, e ora in cosa lo trasformerete in una banana? Banana! Sono una banana! Oh, tesori miei Eccomi qui Vedo che avete fatto tante bellissime magie Non ti preoccupare Ti prometto che sarò attenta Olli Adesso sono enorme Scusa, Ben Mi spiace È stato un incidente Ma così non possiamo più giocare insieme Sì, invece Devo solo diventare grande anch'io Bene Ora siamo entrambi enormi C'è qualcuno Arriva la gente grande Ci nascondiamo Ma non possiamo farlo Siamo troppo grandi Che cosa facciamo? Oh, è solo Lucy Ehi, ciao Lucy Oh, ciao Vi conosco Lucy, siamo noi Ben e Olli Oh, è vero Ma siete enormi Siamo diventati grandi con una magia Wow, è fantastico Io sono qui con le mie amiche Katie e Yasmin Le volete conoscere? Ma la gente grande Non deve scoprire Che esiste la gente piccola Lo sai Ma io so tutto di voi Tu sei speciale Ne preoccupatevi Sembrate gente grande Non possono scoprirlo Ok Ma non dobbiamo rivelare loro Nessuno dei segreti Degli elfi O delle fate Ciao Loro sono i miei amici Ben e Olli Io sono Yasmin E io sono Katie Il tuo costume da fatina È una meraviglia Grazie Dove abiti Olli? In un castello delle fate Un castello delle fate? Dici sul serio? Olli Volevo dire Che abito in una casa E tu dove abiti Ben? Io vivo in un albero In un albero? Voglio dire In un condominio Noi lo chiamiamo L'albero Sai Anch'io vivo in un condominio Noi lo chiamiamo Condominio e basta Ricevuto Forza ragazzi Si comincia Diamoci da fare Oh cielo Che cos'è questo rumore? Pronti a sollevare Salve vostra maestà Ah sì Continuate Abbiamo caricato tutto ragazzi Potete andare Papà Hanno portato via tutto il nostro castello Questo è un vero disastro Eccomi Oh no È la mamma Posso guardare adesso? Puoi farlo solo se chiudi gli occhi Oh È divertente È come nei programmi che guardo in televisione Posso aprire gli occhi adesso? Non lo farei Ditemi voi quando posso Circa fra un mese Oh Dove è finito il castello? Eh Ecco Cosa credi che diranno i calendula quando vedranno questo? Rideranno 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 Oh no I calendula sono arrivati Ciao caro sorella Oh mamma mia Oh mamma anche mia Non è proprio come ce lo aspettavamo però Non so davvero che cosa dire Eh Non è ancora finito È Meraviglioso Sì È incredibile Volevamo soffitti alti Voi li avete eliminati del tutto Già E guarda qui l'angolo bagno Sì Essenziale È completamente aperto Lo trovo così Avventuroso Beh Devo ammettere che quella è stata una mia idea Re Cardo Vecchio mio Sei davvero un architetto nato È vero Hai mai pensato di insegnare architettura? Oh Veramente no C'è nessuno? Sono spariti tutti quanti Hanno lasciato le bacchette Oh È bello averti di nuovo con me Ehi Tata Adesso che hai di nuovo la tua bacchetta magica Ti dispiacerebbe? Sarà un vero onore accontentarla grande mago Ti do il permesso Ritorna te stesso Allora dove saranno finiti quei poveri bambini? Temevo che sarebbe successo Purtroppo Daisy e Poppy devono aver trovato il passaggio segreto Scusate Dove porta questo passaggio segreto? Porta alla stanza segreta Non avevo idea che noi ne avessimo una Certo Perché è un segreto Questa stanza contiene una grande energia magica Che non deve assolutamente essere liberata Allora I bambini non dovrebbero essere chiusi lì dentro Riesco a sentire le loro voci Stanno ridendo E Sento anche qualcos'altro Non dobbiamo assolutamente entrare Ma insomma Quanta esagerazione per questa energia magica dai poteri straordinari Tranquilli ci penso io Buona fortuna Mia coraggiosa e dolce Susi Oh Che cosa riesci a vedere? Delle cose spaventose Arrivo Tata Barbarossa alla riscossa Ecco i bambini Sani e Sani Arrivo Tata Resista Tata Susina Ce l'abbiamo fatta E in salvo adesso mio dolcissimo pasticcino Ho visto delle cose terribili in mare Ma niente Niente paragonabile a quello che ho appena visto in questo posto Ed ecco perché cerchiamo di tenere la porta chiusa Urraa Andiamo subito in cucina Adesso dobbiamo mescolare tutti gli ingredienti Una mora Dello zucchero Mezzo limone La rugiada Bava di lumaca E l'ultimo ingrediente Un rutto di rana E adesso La formula magica Zucchero e limone Mora fragrante Rugiada Rutto e baba Mescolatevi all'istante Quell'intrulla avrà un gusto davvero spaventoso No Ben Non ti ricordi? È una pozione che deve essere solo spalmata sui piedi E non bevuta Nessuno berrebbe questa cosa Oh perbacco Ma è davvero terribile Ha un gusto assolutamente disgustoso Paparino Ma tu non avresti dovuto berla Avrebbe dovuto spalmarla sui suoi piedi Cosa? Mi chiedo che succederà adesso Vediamo un po' cosa dice il libro Oh perbacco Che significa? Mi sono sbagliata Quello non era affatto un rimedio per il raffreddore comune Era una cura per la calvizie Però devo dire vostra maestà Che i capelli lunghi vi donano moltissimo Tata Susina Credo che il raffreddore sia sparito Urrà! Il re mi ha attaccato il raffreddore Guardate un verme È scappato via Non dobbiamo darci per vinti Proviamo di nuovo Eccone un altro Io mi arrendo Sono difficili da prendere Ma questo piccolo uccellino è molto affamato Dobbiamo assolutamente trovare la sua mamma Il solito le mamme uccello arrivano quando i piccoli le chiamano Ma non cinguetta abbastanza forte? Tata, usa la magia Fallo cinguettare più forte Sì, subito Rendilo all'istante un uccellino gigante Oh no! Hai usato la formula magica sbagliata L'uccellino sta diventando enorme Non ho sbagliato affatto L'ho reso più grande Così cinguetterà più forte Non preoccupatevi L'incantesimo non durerà molto E quanto durerà, tata Susina? Potrebbe svanire tra un minuto O una settimana L'incantesimo ha svanito E la mamma uccello sta arrivando Urrà! Urrà! Che cosa ha detto? Ha detto grazie di tutto e ciao ciao! Ciao ciao! Ciao Ollie! Questa era la nostra ultima consegna Possiamo giocare! Tu avrai anche finito Ben Ma io sto ancora lavorando qui Ollie! È il momento del tuo discorso! Salve! Avete organizzato una splendida festa E spero che vi divertiate moltissimo a ballare Ottimo lavoro! Ottimo lavoro! Urrà! Urrà! Viva il principale Che succede adesso? C'è la parte più difficile Dobbiamo starcene seduti senza addormentarci In onore di sua maestà Riccardo Ci esibiremo in una danza Ah, che orrore! Adesso è anche peggio Urrà! Bravi! Eccezionale! Davvero bravi! Avanti papà Andiamo a ballare Cosa? Ma io... Oh, d'accordo Potreste suonare qualcosa di più Moderno? Certo maestà Sai papà Il tuo lavoro mi piace È divertente Hai ragione, Ollie Essere re è uno spazzo Per me si sta mettendo male Ollie si è nascosta troppo bene Credo che non ce la farò mai a trovarla Ti ho trovata! Oh, ma come fai a vedermi? Io sono invisibile Oh, non sono più invisibile L'incantesimo è svanito L'incantesimo? Ecco, io ho usato Soltanto un pizzichino di magia Lasciamo perdere Perché non facciamo un altro gioco? Ti prometto solennemente Che non userò le mie ali e la mia magia Va bene Allora adesso giochiamo a... Ben! Ollie! Bambini! Le tortine sono pronte Ma signora elfo Dobbiamo per forza entrare in casa Non possiamo giocare ancora un pochino Questa è proprio bella Credevo che una certa principessa delle fate E un certo elfo Trovassero noioso giocare Ma mamma Noi abbiamo appena cominciato a giocare insieme E tu hai detto che le tortine dovevano cuocere tanto Infatti ci hanno messo tantissimo Davvero? Vi è sembrato che il tempo volasse Perché vi stavate divertendo Succede spesso Volete assaggiare una tortina? Sì, grazie! È deliziosa! È squisita! Queste tortine sono fantastiche E la signora elfo non ha nemmeno usato un po' di magia Ti ringrazio, Ollie Ma credo che sia tutto merito di come hai mescolato l'impasto La vuoi vedere una magia? Va bene! Io posso fare sparire questa tortina Ma come? Credevo che gli elfi non sapessero usare la magia Osserva attentamente La gallina è fuori controllo! Si salvi, Chittà! Prendete quella gallina! Svelti! Salite sul camion! Seguiamo quella gallina! Oh, perché ci siamo fermati? Oh no! La molla deve essere ricaricata Aspetta, Ollie! Ti do una mano io! Oh, buongiorno! Qualcuno mi può portare un uovo? Adesso! Oh, mamma mia! Tata Susina! Ti avevo detto di non fare apparire una gallina Ma non l'ho fatta apparire io! Tata? Tu sai parlare la sua lingua? Certo, vostra maestà! Allora, che cosa ha detto? La signora gallina dice... Guardate! Laggiù c'è la nostra gallina! Attenzione, tata Susina! Quello è un animale estremamente pericoloso! Ma non dire sciocchezze! È soltanto una gallina! La gallina ha di posto un uovo! Urrà! Daisy, Poppy, sono certa che non l'avete fatto a... Miau! Uccellino che vola! Uccellino che vola! Credi che sia finita? Sì, per fortuna gli uccellini non sanno usare le bacchette magiche Oh, Barnaby, Ben! Avete visto le ragazze? I gattini sono Olly e Fiore E gli uccellini sono le gemelle Cosa? Eh, Daisy e Poppy hanno voluto fare un po' di pratica con la magia Oh, capisco... E chi sono tutti quei conigli? Quelli sono gli elfi! Perfetto! Devo sistemare un po' di cose Correte via gattini, tornate qui Fatine Saltellate via coniglietti, tornate qui elfi Volate via uccellini, tornate qui gemelli Olly, sbaglio o avresti dovuto badare alle tue sorelline Ma, Tata, le gemelle sono davvero impossibili Sono proprio delle piccole pesti Beh, non è successo niente di grave Niente di grave? Ci hanno trasformate in conigli! Lo so, sono molto colpita Ma, ma... Le piccole stanno diventando brave con la magia Rana Ranocchia! Date subito a me queste bacchette Per oggi ne abbiamo avuto abbastanza di magia Ma, Tata Susina, non possiamo lasciare che rimanga una rana? Non possiamo? No, immagino di no E va bene, Olly, falla tornare come prima Salta via rana, riappari Tata Tata Susina è in un nido di uccellini Non c'è alcun pericolo Finché le uova non si schiuderanno Ecco appunto Oh no, gli uccellini sembrano affamati Oh, accipicchia! Le ali sono ancora bagnate! Tata Susina! È un po' spiacevole, ma in fondo è solo fango Veramente credo che siano sabbie mobili Tata Susina, sta sprofondando sottoterra Ben, sono pronta per il salvataggio adesso Fantastico! Decolla, Gastone! Presto sbrigati! Tata, cerca di resistere! Adesso proverò a prenderti all'asso per tirarti fuori di lì È troppo pesante! Gastone, tira! Non mollare! Uuuh! 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 Tata Susina! Hai un odore disgustoso! Beh, almeno non c'è nessun altro che mi sta vedendo Santo cielo! Sei proprio tu, Tata Susina? Eh, sì, Regina Cardo Sto insegnando alle fatine delle importanti regole Eccellente! E quali regole delle fate hanno imparato? Prima regola Le fate devono sempre apparire carine Capelli in ordine, vestito elegante, pelle luminosa e ben pulita Eh, certo! Ora stavo mostrando alle bambine che cosa non devono fare Regola due Le fate non devono mai separarci dalle loro bacchette Eh, sì, sì, Fragolina Riccardo non ci ha chiesto ogni minimo dettaglio Sì, è vero Sembri avere tutto sotto controllo, Tata Prego, continua Vi ringrazio, vostre maestà Per favore, non toccatele Sono state create con la magia? Oh, no! Sarebbe stato troppo facile Il ghiaccio di cui sono fatte Si è formato migliaia e migliaia di anni fa A secoli Ed è stato intagliato da alcuni polletti minatori norvegesi Queste sculture sono uniche a un mondo E semplicemente insostituibili Oh, questo cigno è bellissimo Adoro i cigni Oh, accipicchia Tata Susina, ma che cosa hai fatto? Hai appena rotto la testa del cigno Non importa, ne faccio apparire un altro Abracadabra, apparire faccio un uccello tutto di ghiaccio Tata Susina, quello non è affatto un cigno A me sembra una gallina Assomiglia di più a un'anatra Però è adorabile A me piacciono le anatre Da questa porta, forza, sbrigiamoci Questa è la collezione a cui teniamo di più in assoluto È molto preziosa la collezione di giocattoli antichi È meravigliosa Passerete un sacco di tempo qui a giocare Io potrei rimanere qui dentro per sempre Questa bella scimmia ha fin di un centinaio di anni, ve l'assicuro E questo pagliaccio di anni è almeno più di duecento A quanto pare sono stati costruiti alla fabbrica degli elfi Da qualcuno chiamato il vecchio saggio elfo Noi conosciamo il vecchio saggio elfo Voi conoscete il vecchio saggio elfo? E com'è? Raccontatemi È molto saggio È vecchio Ed è un vecchio molto brontolone e molto poco saggio